Gianni Cocone, allenatore lanorese, sconsolato e forse deluso e stava andando bene, proprio in due minuti, due gol, poi alla fine della prima ripresa 2-2 e così è finita. Diciamo che avevamo messo la gara in discesa con le prime due retti, la squadra era brillante, ha dimostrato superiorità ai primi 20 minuti, poi succede il patatrack della prima retta e subita e un po' ci siamo lasciati andare, ci siamo allungati e da lì è arrivata la seconda retta dell'Ilva Maddalena, secondo tempo abbiamo ricompattato il tutto, ci siamo coperti bene, ripartivamo bene e poi devo recriminare con le ultime due occasioni chiare, penso senza fare, senza nulla a togliere che il rigore su Sanne era netto e la retta, ora non mi ricordo neanche nella linea di porta sbagliata, era retta, però di colpo è diventata non retta. Ecco comunque, vabbè, 2-2 si va bene, però direi che pensavate di farcela? Ma sapevamo in ogni caso le difficoltà che incontravamo perché giocare alla Maddalena non è mai facile, veniva da un periodo non brillante il Maddalena ma in ogni caso riconoscendo il valore dei ragazzi che compongono la squadra, siamo venuti in ogni caso pronti a rispettarla ma cercando di vincerla è normale la partita. Ripeto, abbiamo iniziato benissimo, poi due occasioni ci penalizzano, due occasioni contro e poi due occasioni in nostra favore ci penalizzano, alla fine ci accontentiamo. quello che il ramarico mio è che in ogni caso un arbitro deve dimostrare personalità se ritiene che il rigore ci sia perché secondo me c'è una visuale giusta, c'era, non deve fare come Ponzio Pilato perché l'arbitro viene giudicato anche in base a queste partite difficili, si prende delle decisioni importanti, giuste, purtroppo... C'erano anche i commissari, c'erano... Purtroppo ritengo che ha fatto come Ponzio Pilato ma così non fanno nessuna strada. Sandra Ciaro, così giusto per scherzare, ma eri al pronto soccorso per una visita cardiologica oppure no? No beh, sono ancora... mi ha assorbito tanto questa partita perché aveva una partenza a handicap a 10 minuti e sotto due gol contro una squadra di questo spessore effettivamente non si poteva stare tranquilli, però la squadra ha avuto una reazione veramente straordinaria ha provato subito a cercare di rimediare con carattere, direi anche con qualità, ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato, ci siamo riusciti ad agganciare già nel primo tempo il pari con due stupendi gol e di fronte chiaramente avevamo una squadra forte che giocherà il campionato per il gradino più alto per vincerlo, quindi voglio dire, è un punto che alla fine ci fa classifica, muove a classifica, però c'è anche il rammarico alla fine che se il gol di Valerio Varsi era nettamente regolare, l'abito ha visto un fallo di mano che non c'è, ho parlato con il ragazzo, avevo poi la stoppata con il petto, abbiamo avuto poi altre due occasioni, io parlo di quelle più nitide, con De Santis davanti al portiere, con Valerio ancora davanti al portiere, poi ci abbiamo provato in tutti i modi, con energia, con carattere, quindi c'è da rimanere soddisfatti, chiaro che sarà un campionato per noi di sacrificio, perché ci sono squadre molto competitive e noi stiamo facendo il possibile, anche se ci sono delle assenze che pesano, quella della prima punta per esempio, che comunque chi ha giocato lì davanti ha fatto il suo, con caratteristiche sicuramente diverse, però bisogna essere fiduciosi, mai perdere la calma, lavorare così e credere in quello che è il nostro obiettivo, stando sempre uniti, questo è quello che predico, con umiltà e sacrificio, il nostro campionato è questo. Oggi la squadra dopo il 2-0 ha avuto una grande reazione, un grande carattere, è stato premiato con un pareggio che con più attenzioni, con più cinismo si poteva anche vincere, anche se riconosco che alla fine non lo scadere ha avuto una buona occasione. 94-1? Eh sì, sono l'ultima situazione, è stato abilissimo Filinesi a evitare la beffa finale, perché non meritavamo assolutamente, anzi, comunque non è l'ultima squadra, faccio i complimenti perché sono un organico di primo livello.